ciao stamattina vi porto insieme a me a fare un giro ad un nuovo centro commerciale i due mari io sono già andata tante volte qui solo che non ho mai registrato un video non veniamo spesso qui perché è un po lontano per arrivare ci mettiamo circa 20 minuti in perché si trova praticamente fuori cadanzaro esattamente si trova a maida dopo la mezza terme comunque scusate per il vetro del finestrino un po sporco ma mio padre deve andare a lavare la macchina ho notato questa cosa mentre stavo registrando il video vabbè a parte questo stamattina siamo partiti da casa abbastanza presto verso le otto e mezza infatti siamo arrivati al centro commerciale verso le nove io mia mamma e jenny ci siamo seduti dietro invece salvatore e mio padre davanti ovviamente mio padre guida quindi deve stare per forza lì abbiamo deciso di fare un giro a questo centro commerciale perché è grandissimo ci sono tantissimi negozi e quindi possiamo trovare degli acquisti un po più interessanti noi praticamente andiamo quasi sempre alle fontane ovviamente lo sapete perché io ve lo faccio sempre vedere anche lì ci sono dei bei negozi solo che come centro commerciale è molto più piccolo rispetto a questo e poi comunque dato che andiamo sempre abbiamo già girato tutti i negozi e quindi non riusciamo mai a trovare nulla di interessante di nuovo cioè ci sono sempre le stesse cose ed è inutile continuare a fare lo shopping sempre negli stessi negozi comunque in particolare jenny e salvatore stamattina dovevano fare un po di shopping io non sono partita con l'idea di fare shopping ma poi alla fine del video vi farò vedere che ho acquistato anche io qualcosa perché ovviamente io non resisto cioè se vedo qualcosa che mi piace la devo per forza acquistare allora jenny come outfit ha scelto questo c'è una gonna rossa e poi la maglietta nera invece io ho messo una gonna nera una maglietta nera e ovviamente l'enfradito perché sono comode ormai lo sapete io e jenny usciamo sempre con l'enfradito e poi sono uscita anche con la borsa che utilizzo al mare cioè mi sono dimenticata di cambiare la borsa stamattina però non fa niente ho lasciato questa comunque appena siamo arrivati al centro commerciale praticamente c'erano pochissime persone perché ovviamente come vi ho già detto prima siamo arrivati abbastanza presto e quindi ci sta c'erano poche persone sono arrivate tutte dopo noi di solito quando facciamo shopping e stiamo sempre da soli cioè mio padre non viene quasi mai con noi perché lo sapete ve l'ho già detto tante volte a lui non piace la confusione e quindi preferisce magari accompagnarci e poi tornare a casa invece questa volta ha deciso stranamente di rimanere con noi e di fare anche lui un giro nei negozi lui era alla ricerca di un paio di scarpe ma alla fine non ha acquistato niente perché non le ha trovate lui purtroppo ha un problema a un piede perché è stato operato e quindi per trovare un paio di scarpe ci mette tanto c'è deve sceglierle con attenzione ma vabbè questo è un piccolo dettaglio comunque a parte questo adesso vi farò vedere un po questo centro commerciale perché è davvero bellissimo ci sono due piani anche qui come alle fontane vicino all'entrata ci sono queste macchinette dove puoi giocare e cercare di vincere questi peluche ovviamente noi non ci abbiamo mai provato perché non si vince niente poi ci sono anche questi giochi per i bimbi io quando ero piccola mi fermavo sempre qui infatti mi divertivo un sacco comunque non so se avete notato la faccia di jenny che era tipo scioccata da questo gioco poi abbiamo visto altri giochi sempre con i peluche e jenny praticamente si è fermata a fissare stitch non so se lo avete capito ma lei è innamorata di stitch infatti mi sa che il prossimo regalo che farò a jenny sarà proprio stitch comunque stamattina per venire qui al centro commerciale praticamente non siamo andati al mare ma non fa niente ci sta fare qualcosa di diverso ogni tanto sicuramente non possiamo andare tutti i giorni al mare e poi adesso so già che scriverete nei commenti a ma cosa avete fatto di differente rispetto a tutti gli altri giorni voi andate sempre al centro commerciale questo è vero sì però non veniamo spesso qui comunque a parte questo siamo entrati in tantissimi negozi io mi sono fermata a guardare questi jeans perché praticamente ho lo stesso modello di jeans a casa solo che è un notato che cambia la catena cioè io ne ho una invece qui a questo jeans ce ne sono due però ovviamente non li ho presi perché ce li ho già uguali poi ho notato anche che in tantissimi negozi ci sono i saldi quindi secondo me è proprio il periodo adatto per acquistare adesso salvatore ha già fatto i suoi primi acquisti poi io e jenny siamo andati in un altro negozio e neanche io ho fatto i miei primi acquisti io non ho spesso tanto oggi cioè ho spesso davvero poco comunque tutte queste cose che abbiamo comprato ve le farò vedere in un altro video a parte dopo siamo saliti al secondo piano guardate com'è bello qui praticamente a questo centro commerciale vengono tantissime persone famose spesso li invitano come ospiti noi una volta siamo venuti e c'erano se non sbaglio le tonatella e hanno fatto una specie di spettacolo sono state davvero brave poi abbiamo visto anche teoma mucari comunque verso le 10 ci siamo fermati ad un bar per fare colazione io e jenny abbiamo preso due granite al limone mia mamma e salvatore due coni con il gelato mia mamma ha scelto dei gusti abbastanza particolari cioè il puffo e il limoncello e salvatore ha preso nocciola e fior di latte invece mio padre ha mangiato un arancino lui praticamente ha scelto una colazione salata nel frattempo io mio padre ci siamo seduti qui e jenny mia mamma e salvatore sono andati a fare qualche altro giro in altri negozi comunque anche qui a questo centro commerciale c'è il cinema praticamente mi hanno detto che è enorme io non so com'è dentro perché non ci sono mai entrata sono andata solo al cinema alle fontane dopo mio padre è tornato di nuovo in pizzeria e ha comprato tre arancini uno per me uno per salvatore e uno per mia mamma jenny non l'ha voluto perché a lei non piace il formaggio e quindi preferisce non mangiare queste cose della pizzeria comunque a parte questo ci siamo fermati anche in un altro negozio che secondo me era davvero stupendo perché potevi trovare un sacco di oggetti a un prezzo basso infatti mia mamma ha trovato un oggetto giallo bellissimo e l'ha pagato esattamente 50 centesimi anche questo ve lo farò vedere nel prossimo video qui praticamente vendono di tutto guardate come sono belle queste borracce cioè sono stupende siamo stati in questo negozio tantissimo tempo perché è una specie di labirinto cioè non so spiegarvelo praticamente una volta che tu entri devi fare per forza tutto il giro del negozio cioè non puoi uscire senza vedere tutte le cose guardate questa mi sa che è una specie di pallina antistress poi ho visto anche le cose per realizzare dei braccialetti personalizzati solo che jenny questa volta non l'ha voluti comprare ma ha preso un'altra cosa e finalmente dopo una lunga mattinata siamo usciti dal centro commerciale e fuori abbiamo visto anche un aereo l'aereo era così basso perché praticamente siamo vicino all'aeroporto di la mezzia siamo tornati a casa più o meno verso luna è stata una mattinata abbastanza interessante e divertente secondo me abbiamo fatto degli ottimi acquisti e ovviamente ve li farò vedere tutti dopo come vi ho già detto prima in un altro video